Il video della volta precedente è servito a inquadrare il meccanismo con cui funziona LinkU. Oggi vorrei procedere in modo un pochino più sistematico e dettagliare le varie categorie di operatori che abbiamo a disposizione, senza però trasformare questa parte della playlist in un reference. E tra le cose che avevo trascurato sull'operatorio WHERE, e che mi sembra degno di essere adesso approfondito, è la possibilità di fornire un secondo argomento alla lambda che forniamo come predicato. Che è un riferimento posizionale nella sequenza secondo l'ordine con la quale è stata costruita. Si capisce meglio con un esempio immediato. Potrebbero per un qualche motivo interessarci soltanto i giochi in una certa posizione, uno sì, uno no, quelli in posizione dispari, o pari, al che potremmo aggiungere, per i pari, AND I la posizione modulo 2 uguale a 0. Non otterremo perciò nella sequenza del risultato tutti i borderlands, ma soltanto quelli che, avendo come indice base di partenza lo 0 come al solito, occupano una posizione pari. BORDELANDS 1 in posizione 0, pari, e poi BORDELANDS 3 in posizione 2. Aspettative soddisfatte. A seguire un paio di operatori che prendono una fettina di una sequenza. TAKE prende i primi N di una certa sequenza. È molto utile, secondo me, quando abbiamo un'operazione che restituisce una lunga sequenza e diciamo, prendi i primi 20, prendi i primi 30, gli altri non mi interessano. I primi 3. Similmente, possiamo andare a indicare gli ultimi di una sequenza, TOT di una sequenza. Indirettamente, cioè, indichiamo quanti saltarne, e così staremo bypassando i primi 3 borderlands e otterremo, come risultato, gli altri giochi Destiny e Doom. Ne va da sé che combinando SKIP e TAKE potremmo dire prendi dal decimo al ventesimo, SKIP 9, TAKE 10. TAKE e SKIP sono due versioni, potremmo dire, enumerative, volendo fare un parallelo con i tipi di ciclo. E allora devo dirvi che esistono anche le versioni indefinite, che corrispondono al ciclo WHILE o al DO WHILE. E in effetti li abbiamo proprio chiamati così. TAKE WHILE, SKIP WHILE. E allora proviamo a chiedere, qual è il primo gioco dopo i Borderlands? Immaginando che siamo tutti lì concentrati all'inizio, saltali tutti finché è vera questa condizione. Appena diventa falsa, vuol dire che si è sul primo gioco, che non è Borderlands, o più precisamente, che non contiene nel suo titolo, la parola Borderlands e quello voglio, il primo, che sarebbe Destiny 1. Eccolo. Oh, ma le sequenze potrebbero anche contenere dei doppioni, indesiderati. Eliminiamoli. Distinct. Non ce n'è. Intendo i doppioni, ma adesso ne aggiungiamo uno. Un secondo, Destiny 1. E uno dei doppioni sparirà. Destiny 1 compare infatti una volta sola. Qui abbiamo a che fare con delle semplici stringhe, ma se gli oggetti fossero un po' più complessi, avremmo anche la possibilità di specificare un New Compare, quindi come abbiamo già fatto in precedenza, definire una classe comparatore, che implementa l'interfaccia IEqualityCompare, ricorderete, l'abbiamo visto davvero poco tempo fa, e implementando poi i metodi equals, e con quello che poi si deciderebbe quando considerare due oggetti l'uno dopo l'un dell'altro, e il getHashCode. Ho allora rispolverato, per fare un esempio, la classe degli amici. Qua sopra, la classe che implementa l'IEqualityCompare, parametrizzata su amico. Due amici sono lo stesso amico, se condividono lo stesso nome e hanno lo stesso telefono, beh, sono anche le uniche due cose che abbiamo nella classe, d'accordo? Il getHashCode fa riferimento allo stesso metodo della componente nome. Andatevi a rivedere, nel caso, andatevi a rivedere gli ultimi video sul dictionary, dove si fa riferimento appunto a questo meccanismo. Per fare un test, ho aggiunto questo array di amici, dove abbiamo chiaramente due elementi che sono doppioni, Giorgio, filtro, consegnando al metodo di Extint un oggetto di classe amico con pera. Il for each ci confermerà che i due Giorgio sono considerati lo stesso Giorgio e una volta sola comparirà il telefono 82347, perché poi è quello che ho fatto stampare. Il filtro ha funzionato. E per oggi mi fermerei qui, perché affrontare il prossimo argomento rischierebbe o di prolungare troppo il video, o di troncare la metà in modo inopportuno. Impareremo infatti a combinare tra di loro più fonti di dati. Nel nostro caso, più collezioni di qualche tipo. E un'osservazione, man mano che ci si addentra, sempre più in dettaglio, diventa evidente che gli operatori andrebbero ad espletare la loro massima efficacia e efficienza, soprattutto con fonti di dati come database, al che dovremmo, ma non posso farlo in questa playlist, approfondire il discorso sull'entity framework e eventualmente il parsing, la manipolazione dei documenti XML. Potrebbero diventare, in particolare, entity framework, prima o poi dovrò in qualche modo macinarlo, almeno a livello elementare, il tema di playlist autonome, però, come ho già tante volte detto, dovrò prima dare spazio un pochetto anche a altre tecnologie, che quasi da due anni ormai sto trascurando. E allora, a risentirci.